Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, nella puntata di oggi parliamo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le nuove misure introdotte per fronteggiare l'epidemia Covid, delle misure introdotte invece in Cina e in Inghilterra, sempre per la stessa ragione, poi parleremo di un po' di notizie dal mondo come la situazione in Nagorno-Karabakh, di cui abbiamo parlato anche ieri, e le elezioni in Tajikistan, e infine del rientro e la più grande missione nell'Artico di sempre. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati su tutti i temi di attualità. e che trovate anche tre modi molto semplici per seguire e non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp o al gruppo Telegram o infine alla newsletter dedicata. Va bene, detto ciò, cominciamo dicendo che è arrivato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sicuramente più atteso probabilmente dell'ultimo libro di George R. R. Martin, ed è un decreto che introduce le nuove misure che saranno valide per i prossimi 30 giorni e che sono all'incirca queste. Misura numero 1 sono vietate le feste private sia al chiuso che all'aperto e c'è la forte raccomandazione da parte del Governo di evitare cene o inviti a casa con più di 6 persone che non siano direttamente conviventi. Anche i ristoranti e i bar hanno delle novità perché dovranno chiudere obbligatoriamente alle 12, insomma a mezzanotte e dalle 9 di sera dovranno smettere di servire alcolici a persone che non siano sedute a un tavolino. Vuol dire che se un ristorante o un bar non ha dei tavolini e quindi serve solo al bancone o da asporto, da asporto in realtà si potrà ancora fare, ma le persone non potranno consumare in luogo a meno che non siano sedute a un tavolino e neanche fuori dal bar o di fronte al bar. Questo appunto significa che se i bar non sono attrezzati o i ristoranti non sono attrezzati con gli appositi tavolini dovranno chiudere alle 21. Torna poi il divieto delle gite scolastiche e anche lo sport, lo stop ad alcuni sport di contatto tipo calcetto, pallavolo, insomma tanti altri simili svolti a livello amatoriale. Infine viene ribadito l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, come al tema di cui abbiamo già parlato, da qui però sono generati chi fa attività sportiva. Ora su questo c'era stato un po' di dibattito nei giorni scorsi perché non si capiva se il governo distingueva fra attività sportiva e attività motoria e quindi inizialmente si era pensato che per attività sportiva si intendesse attività sportiva professionistica, in realtà è stato poi precisato che per attività sportiva si intende semplicemente qualsiasi attività sportiva tipo andare a correre fuori o al parco che può essere fatta senza mascherina, mentre per attività motoria si intende semplicemente camminare per strada ad esempio anche mentre si va a fare la spesa e in quel caso c'è l'obbligo della mascherina. Ne sono esonerati oltre a chi fa attività sportiva i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. In compenso però nel frattempo cala la quarantena che verrà ridotta da 14 a 10 giorni e per i positivi basterà un unico tampone negativo anziché due per interrompere l'isolamento. In pratica secondo il nuovo protocollo del comitato tecnico scientifico i positivi al coronavirus devono restare in isolamento per almeno 10 giorni dei quali gli ultimi 3 incompleta assenza di sintomi che significa che se al settimo giorno non hai più i sintomi al decimo puoi farti il tampone e se è negativo puoi dichiararti ufficialmente guarito. Se invece l'esito del test è positivo secondo quanto riporta l'ANSA il paziente dovrà fare altri 7 giorni di isolamento e sottoporsi a un nuovo tampone se anche questo nuovo tampone risulterà positivo dovranno esserci 4 ulteriori giorni di isolamento farsi un ultimo tampone ma in questo caso se anche in realtà dopo gli ultimi 4 giorni non c'è neanche bisogno di farsi il tampone scusate perché comunque a quel punto sempre in assenza di sintomi termina comunque la fase di isolamento quindi che sia positivo o negativo si può tornare a fare una vita normale per gli asintomatici invece per coloro che non presentano i sintomi ma risultano sempre positivi al tampone dopo 21 giorni quindi c'è un tampone effettuato al 17esimo giorno se questo tampone è positivo quindi l'ultimo tampone positivo anche lì si aspetta da 4 giorni dopodiché comunque si può tornare a uscire di casa normalmente queste nuove norme mettono un po' in linea il nostro paese con le nuove indicazioni dell'OMS e con quanto stanno già facendo in Germania dove ad esempio la quarantena dura 10 giorni e rispetto alla Francia che la prevede addirittura di 7 dove invece adottano misure abbastanza più drastiche è in Cina perché a Tsingtao che è una città cinese della provincia dello Shandong sono stati trovati 12 abitanti positivi al Covid e allora l'amministrazione ha deciso di fare il tampone a tutti i residenti della città quindi quei 12 abitanti sono stati non ancora però saranno fatti i tamponi a tutti i residenti della città che sono 9 milioni e gli sarà fatto il tampone fra l'altro nei prossimi 5 giorni quindi una misura sì un pochino drastica ecco forse in Inghilterra invece il Premier Johnson dopo essersi confrontato nelle ultime ore con i rappresentanti delle autorità locali ha deciso di dividere il paese in tre fasce perché in Inghilterra c'è stato un discreto aumento dei casi negli ultimi giorni e quindi Johnson ha deciso di dividerlo in fasce a basso, medio e alto rischio in quelle, nelle fasce a basso rischio comunque vengono mantenute alcune norme già previste tipo la regola del 6 quindi di non riunirsi a gruppi di più di 6 persone mentre in quelle ad alto rischio come ad esempio la città di Liverpool è previsto una sorta di lockdown parziale con la chiusura di ristoranti, pub, palestre e altri luoghi di possibile aggregazione va bene, passiamo a dare qualche altra notizia dal mondo ne abbiamo già parlato ieri ma in Nagorno-Karabakh proseguono i combattimenti tra l'esercito a zero e le forze separatiste della regione che sono sostenute dall'Armenia tutto ciò in violazione appunto della tregua che era entrata in vigore il 10 ottobre fortemente voluta dalla Russia intanto in Tajikistan la commissione elettorale ha annunciato che ci sono state le elezioni e la commissione elettorale ha annunciato che il capo di stato uscente Emomali Ramon al potere dal 92 è stato rieletto con il 91% delle preferenze ora non ci sono state le elezioni in Tajikistan è praticamente dopo la fine dell'Unione Sovietica che continua ad essere eletto sempre lo stesso presidente e è da allora che le Nazioni Unite dichiarano non valide le elezioni perché sostanzialmente non c'è opposizione questa volta l'opposizione ha deciso di bocchettare il voto e in generale sono diverse ombre sui risultati delle elezioni da molti anni a questa parte una situazione abbastanza simile alla Bielorussia ultima notizia del giorno e poi chiudiamo è rientrata ieri la Polarstern che sarebbe la nave rompighiaccio che da oltre un anno era il centro e anche il mezzo di locomozione della più grande spedizione scientifica dell'Artico di sempre per tutto l'anno i ricercatori hanno raccolto dati preziosi sul funzionamento di quello che è uno degli ecosistemi qui ne parliamo spesso più fragili e più a rischio per via dei cambiamenti climatici secondo il capo della spedizione Marcus Rex quello a cui hanno assistito i ricercatori a bordo per la maggior parte del tempo è stata un'esperienza abbastanza dura di confronto con la realtà e la realtà è che l'Artico sta morendo in quanto epicentro dei cambiamenti climatici addirittura in corrispondenza del Polo Nord i ricercatori hanno trovato un ghiaccio molto sottile molto eroso e molto fragile tra l'altro è curioso che questa missione durata un anno abbia praticamente isolato questi ricercatori dal mondo in epoca di pandemia quindi sono rimasti rinchiusi in questa bolla per tutto l'anno avendo ovviamente notizie dal mondo ma senza vivere direttamente il lockdown e tutte quelle esperienze che abbiamo vissuto legate al covid e adesso sono tornate e quindi passano da una situazione strana a un'altra forse ancora più alienante comunque detto ciò io per oggi vi saluto vi do appuntamento domani con una nuova puntata di un rassegno sempre alle 10, sempre alle 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto ciao 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 ciao